Per farvi capire, signori, guardate, vieni qua, vieni qua, guardate, signori, 3 milioni e mezzo, lo vedete? Guardate, 3 milioni e mezzo, vedete? L'ho disintegrato, perché se io ve lo voglio regalare, l'avete capito o no? 3 milioni e mezzo, l'ho disintegrato, dove è andato a finire? Guardatelo qua, signori, eccolo qua, signori, 3 milioni e mezzo, disintegrato, guardate, disintegrato! Ve lo voglio regalare, avete capito o no, signori, attenzione!